All'ultima, pongo in votazione con il parere contrario del Governo la risoluzione Pili numero 600159. Dichiaro aperta la votazione. Archie, Piccolo, Nicchi, Quaranta, Marconna, Vico, Murer, aiutatemi, guardate qui, adesso ha votato, no, Casellato ancora no, ha votato, ci siamo? Da quest'altra parte hanno votato tutti? Sì, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 63, contrari 375, la Camera respinge. Questa era l'ultima risoluzione. Allora, colleghi, ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Guidesi. Deputato, prego, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Noi siamo a chiedere il rinvio ad altra seduta, per cui la prossima settimana, di tutto il resto dell'ordine del giorno, per cui di tutte le ratifiche, in funzione della delicatezza rispetto alla ratifica che riguarda quella con la Cina, ma anche rispetto alle tante valutazioni che sono ancora in essere, in funzione di migliorare i contenuti delle ratifiche, in funzione anche del lavoro che ancora si sta facendo. Per cui, formalmente, chiediamo il rinvio. Va bene, Deputato. Allora, sulla richiesta di rinvio del seguito dell'esame degli ulteriori punti all'ordine del giorno, rimandando...